L'ultimo provvedimento approvato dal Consiglio regionale prima della pausa di fine anno al centro la scuola. È stato infatti approvato il piano triennale per l'istruzione. Il piano traccia le priorità di intervento per il periodo 2012-2014, stabilisce azioni in materia di diritto allo studio, progetti rivolti alla qualità dell'offerta, interventi di edilizia scolastica e tanto altro. Il primo cambiamento riguarda le dichiarazioni di reddito per poter usufruire dei servizi scolastici. I limiti della dichiarazione ISEE necessari per accedere ai contributi per gli assegni si spostano verso il basso. Viene dunque introdotta una nuova fascia fino a 10.000 euro di reddito per le borse di studio e gli assegni di frequenza per le scuole paritarie e statali. E ne è stata istituita una massima fino a 40.000 euro. Ovviamente le famiglie con reddito fino a 40.000 euro potranno accedere al contributo solo dopo che tutte le domande relative a chi dichiara meno di 10.000 euro siano state soddisfatte. Le risorse necessarie non sono state indicate a causa delle incertezze di bilancio e questo ha provocato le critiche delle opposizioni. È una legge vuota, ha detto l'onore Artesio di Federazione della Sinistra, mentre Gianna Pentenero del PD ha parlato di prese in giro perché il provvedimento indica le tante cose da fare ma non i soldi per farle. L'assessore all'istruzione Alberto Cirio ha comunque annunciato che c'è un accordo per intervenire entro la fine di gennaio non appena ci sarà la certezza dei fondi disponibili. Grande soddisfazione per il via libera viene espressa invece da Gian Piero Leo del PDL. Il piano, dice, fornisce al sistema scolastico piemontese un'impostazione equilibrata e in tempi adeguatamente congruenti. Leo sottolinea con favore l'inserimento della fascia da 0 a 10.000 euro per i contributi, un'iniziativa che permetterà alle famiglie di affrontare liberamente la scelta formativa tra scuola statale e paritaria. Un importantissimo segnale di sostegno per i più deboli.